Meglio di così non poteva iniziare il campionato per la Amen Centro Servizi di Arezzo che ha spugnato il parchè del Sestri Ponente a Genova. Una gara tiratissima che ha visto una buona partenza del quintetto di Marco Evangelisti, poi il ritorno nella terza frazione dei padroni di casa. Ma la compagina retina ha fatto muro, riplicando punto a punto. Zocca è stato il migliore realizzatore con 26 punti, bene anche Semprini, Cesari e Toia. 19 per l'Argentino, 14 per il lungo che arriva da Rimini. Ma nel complesso tutta la squadra ha dato una grande risposta, soprattutto mostrando una grande compattezza nei momenti più critici. Da notare che in tribuna si è visto anche Igor Veselinovic che è andato a sostenere la sua vecchia squadra. La SBA tornerà in campo domenica prossima ospitando ad Arezzo la Dani Quarrata. A questo lo scorra degli Aretini, Peruchini 8, Zocca 26, Toia 19, Iannicelli 8, Rossi 12, Semprini-Cesari 14, Gionmetti 1. La partita è giocata approcciata molto bene, poi abbiamo preso vantaggio nell'arco dei 40 minuti almeno 10 volte di 5-6 punti. E sistematicamente facciamo errori che li riportano in partita. Siamo stati bravissimi a non mollare mai perché alla fine loro è un gruppo che gioca insieme da diverso tempo. E in questo campo non è facile. Alla fine ci ha andato molto bene negli episodi finali che abbiamo portato a casa. È un primo passo ma se vogliamo salire un attimo di livello dobbiamo imparare questi errori banali che ci compromettano poi nell'arco dei 40 minuti il risultato.